Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod Oggi vi andremo a mostrare la Rekt Escape Pod Questo mod aggiunge pod, escape pod appunto, che vi permettono di salvare i vostri Kerbal da situazioni pericolose Rekt sta per Recoverable Emergency Kerbal Transport Interessante Allora, partiamo dal Rekt vero e proprio, poiché ci sono due sistemi di recupero Allora, il Rekt consiste di vari 6 escape pod con dei piccoli probe eccetera che vanno attaccati sopra e sotto Allora, il primo è il Miniature Probe Core, 0,1 tonnellate, 15 di electric charge e 10 di manopropellente Un RCS centrale, 5,5 kN di spinta per il de-orbit 0,3 unità di torque, SIS e basta, quindi questo è un piccolo probe core Poi abbiamo il Auxiliar, il Miniature Parachute, che va attaccato sopra Questo qui è un paragodute semplice in linea, 0,075 tonnellate, 1,7 metri semi deployed, 21 metri a 6 fully deployed 264 metri al secondo, 1000 metri, 0,04 atmosfere, quindi paragodute molto semplice Poi ce ne sono altri che vanno attaccati sotto, ad esempio questo che io sposterò un po' in basso, così lo potete vedere Questo qui è il payload retro rocket, 0,4 tonnellate circa, 57,72 kN massimo 18 unità di solid fuel Per questo vi consiglio di installare un'altra mod che è compatibile con questa chiamata Landertron Che permette di automatizzare gli atterraggi con retro booster, è molto utile Altrimenti è quasi impossibile farlo manualmente E poi la standardized utility rect fuel cell Che dovrebbe essere l'ultima Ecco, non andrebbe messa sotto, ma vabbè 00,54 tonnellate, 20 di corrente, 1 di monopropellente E consuma 10,8 all'ora di monopropellente per darvi 1,2 al secondo di corrente Quindi è una semplice fuel cell a monopropellente Ehm, poi basta, ci sono i pod I pod veri e propri Allora, il primo è il Rect Compatible Container Questo è un pod cargo Che è stock e vi permette di portare 90 unità di ore 0,4 tonnellate Però è possibile cambiare le risorse con altre mod Quindi potete mettere quello che volete dentro questo pod Il secondo è il Rect Compatible Container Variante per KISS, Kerbal Inventory System Qui è la stessa cosa, solo che potete mettere anche Dei, ehm Vari utility Non lo so, per dei strumenti o altre robe del genere Della Kerbal Inventory Poi il primo pod per Kerbal Mark 1A Eccolo qui Stando alla pagina del mod Questo è un pod singolo Kerbal Con airbrake inclusi per rientro atmosferico 0,87 tonnellate 25 di corrente 15 in monopropellente Ci sono 3 RCS lì Con 3 Kilo Newton ciascuno Pril de Orbit E, ehm 2 di Reaction Wheels SIS Esperimento, eccetera E poi, tasto destro, deploy airbrakes Eccoli qui 3 airbrake per rallentare E poi, siccome avete Questo è per pianeti con atmosfera È meglio utilizzare il paracodute che i retrobooster Il secondo è il Mark 1C Il Mark 1C è un pod criogenico Con RTG incorporato Questo è sempre per un'altra mod compatibile 0,85 tonnellate 50 di... no 3.000 di corrente Però c'è scritto 3.000 Tra parentesi 50 max Non capisco cosa intenda SIS 0,5 di Reaction Wheels E generatore che fa 0,9 al secondo di corrente Quindi sì Pod criogenico Nessun sistema ad atterraggio incluso Mark 1D Questo qui è un pod leggero Con sistemi di comunicazione integrati Quindi facciamo extend antenna Qui si aprono delle antenne Ci sono pure altri slot qui Uno e due qui C'è scritto che è comunque in via di sviluppo Quindi potrebbero aggiungerne altri in futuro Magari anche qui Questo pod 0,7 tonnellate Se riesco a... ok Antena da 500k Che resiste fino a 1 kN di pressione 0,5 di Reaction Wheels SIS Science E 45 di Electric Charge E infine il Rect Mark 1N Questo è l'equivalente del Mark 1 Assolo Per pianeti non atmosferici Quindi deploy retro rockets Eccoli qui 3 retro rockets incorporati Insieme ai 3 RCS per l'orbit 0,99 tonnellate I booster hanno a 57,72 massimo kN Di spinta 190,240 di ISP RCS 3 kN Reaction Wheels 3 SIS 30 di corrente 15 monopropilente 24 di solid fuel Anche qui consigliabile Utilizzare il... La mod dell'Undertron E poi c'è il R-Hita Decapler Questo qui è in pratica un... Un decapler multiplo per pod Quindi noi prendiamo i pod E li attacchiamo di lato Se riesco a girarlo Ecco 1 2 E 3 Ha dei decapler incorporati da 80 Oppure se volete ci sono anche dei decapler radiali Per sempre i pod Con 100 invece kN di... Cioè 100... Sì 100 kN di Ejection Wars E per quanto riguarda il Rect è tutto Poi abbiamo il... OTAV O Orbital Transition Atmosphere Vehicle È questo escape pod Molto aerodinamico Mi ricorda un po' Interstellar E ha una massa di 1,63 tonnellate Ha un solo posto 006 di docking port La docking port si trova qui sopra il... Il finestrino 03 di lifting Lifting surface 4 unità di reaction wheels Purtroppo non è niente che produce corrente Dovete tenerne conto 80 di electric charge 45 lead fuel 20 monopropellente 55 oxidizer Ha delle parti che vanno attaccate Nello specifico Questo pod Il primo è il pitch stabilizer Questo è semplicemente un elevatore Che va attaccato qui Poi il... OTAV Rocket motor Che va messo... Eccolo lì Questo rocket motor Ha 0,85 tonnellate di peso 78 massimo 90 kN Di spinta 260-300 disp 5 gradi di gimbal Molto potente Per essere un motorino così piccolo E utilizza il carburante integrato Poi per quanto riguarda le ali Abbiamo le Deployable Lift Generators Che vanno messe qua Deploy Semplicemente si aprono in questo modo E hanno la texture di unit shield sotto Anche se effettivamente non sono unit shield E qua sopra abbiamo due possibilità Possiamo mettere o L'airbreak Deploy Che è un semplice airbreak singolo Oppure mettere lo Stabilization Equipment Che invece consiste di Fin Due fin verticali Più Un airbreak centrale Personalmente preferisco questo Anche se immagino Abbia meno Diciamo Crei meno drag Dell'altro Spero Perché altrimenti è un po' inutile Quindi fatemi mettere questo Bene Chiudiamo qui Poi Per quanto riguarda invece Attaccare questo Escape Pod Al nostro craft Abbiamo il type 364 Oto Vinline Dockingport Questa va attaccata qui 1,25 m Qua sopra E semplicemente qui abbiamo Una dockingport Incorporata Con 10 di forza Che va ad agganciarsi Come vedete Si è pure coperto il motore Non mi piace molto Come si stacca Questa copertura Poiché rimane attaccata La dockingport E' ancora in via di sviluppo Quindi probabilmente Lo sistemeranno Però E' un po' bruttino Da vedere E' un po' bruttino Quindi potete attaccare Più volte il vostro Pod In caso sia necessario Oppure un altro sistema Sono queste qui Type W364 Docking clamps Che vanno attaccate qui Dietro si tappa sempre Il Motore Docking clamps Che si attaccano qui Ai lati del muso E poi si può utilizzare Il Type W364 Docking ring Che invece E' un anello Che va ad attaccarsi Alle clamp In questo modo Personalmente preferisco Questo qui Esteticamente E Si collega Appunto A A queste piccole Docking port Questo docking ring Pesa 0,75 tonnellate Ed è da 2 metri e mezzo Con range Di 0,09 Ha un po' più di range Di quell'altra Infatti Quella 3,006 E Ha una luce Incorporata Che richiede Light on Ecco Che richiede 1,2 Di corrente al minuto E se poi Prendo Un qualsiasi altro Componente Lo attacco qua Si crea tutta la sua Struttura Quindi questo escape pod E A me personalmente Piace molto Adesso ve li faccio vedere In azione Bene Siamo ora in orbita E GBDH Herman Al momento si trova E Ah Nelle escape pod Bene Quindi Quello che andrò a fare E E Jettison No Non Jettison Ho svegliato il tasto Di couple Bene Quindi vado a separare Il mio Escape pod Che purtroppo Non ha rcs Di alcun tipo Un board Quindi dovete in pratica Un po' Arrangiarvi Mi oriento già Per il Rientro Non si è staccata La copertura Intanto Jettison 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 Si stacca No Non si stacca Ok Questo è un piccolo problemino E le dock in porta Non si vogliono Jettisonare Vabbè Pratico noi Derbitiamo con il nostro motore Diciamo così dovrebbe andare Ci mettiamo Prograde Deploy Deploy Winglet E deploy Fins Ok Stiamo rientrando Ho aperto pure l'airbreak Per aumentare il drag Intanto vi faccio vedere L'interno Molto Spartano Non c'è Molto Ci sono solo delle Bombole d'ossigeno E basta Dall'interno è così La vista C'è questa grande finestra Però Tanto abbiamo già rallentato E in pratica Non ci resta che Planare Fino a un punto D'atterraggio Anche se Non c'è sistema Di far atterrare Questo Coso Non c'è Non ci sono ruote O paracadute Quindi Hai bisogno per forza O ammarare Oppure Ammarare Basta Come ho già detto È ancora in via di sviluppo Quindi probabilmente Verrà aggiunto un sistema In futuro Ora ho trasferito Gebedia Nel Pod atmosferico Quindi Non mi resta Fare Detach bay Come faccio a sapere Quale bay è questa Vado con uno Ho sbagliato Vado con due Ho sbagliato Vado con tre Sì E' quella giusta Bene Le altre Beh rimarranno in orbita Quindi io Mi giro Devo andare Prograde Attivare L'RCS E premere N Per diorbitare E Ok Ora mi giro Retrograde Apro Gli air brakes E mi preparo Allo rientro Vediamo l'interno Beh Sì Non c'è Non c'è molto Sono comunque tutti uguali Gli interni Probabilmente Come vedete C'è il kerbal dentro E basta Sta iniziando Sta iniziando a rientro Gli air brakes Sembrano fare Un Lavoro decente Non molto Perché sta per esplodere Il motore Ok Niente Non è esploso Il motore L'ho messo solo Per Farvi vedere Come sarebbe Io posso ad esempio Adesso Attivare il motore E rallentare Di molto E ovviamente Siccome è Motore solido Fermarsi completamente Al momento giusto Serebbe un po' difficile Questo comunque È il parco Tutte standard Andiamo a John Fee Che non Si apre Molto lento Ad aprirsi Però non è Non è male Esteticamente E quindi Stiamo scendendo Adesso a 7 metri al secondo Verso la Salvezza In pratica Quindi Un saluto Dal team Bicarbal Italia Ad Alberto